Ciao a tutti, eccoci giunti alla settima lezione che riguarda il social hacking. Nonostante le diverse tecniche di sicurezza di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, capita spesso di essere vittime di questo fenomeno. Cos'è il social hacking? Il social hacking viene spesso ricondotto ad una scienza più ampia, quella dell'ingegneria sociale, che in breve può essere descritta come una tecnica di manipolazione psicologica delle persone utile per divulgare o accedere a informazioni private senza autorizzazione. Il social hacking oggi è divenuto molto frequente per via della crescita esponenziale dei social network e all'uso costante di messaggi e-mail e in generale di tutte le modalità di comunicazione in formato elettronico. Gli attacchi di social hacking vengono messi in atto impersonando un individuo noto alla vittima prescelta, con lo scopo di ottenere informazioni sensibili e di convincerle a eseguire determinate operazioni. A questo punto il gioco è fatto, gli hacker riescono ad entrare nel dispositivo del capitato e a fare quello che desiderano. Spesso non ci rendiamo neanche conto di essere finiti nella trappola di un social hacker, in quanto le tecniche di persuasione si affinano ogni giorno sempre più. Come riconoscere le maggiori tecniche di social hacking? Vediamo ora quali sono le tecniche maggiormente utilizzate in modo da essere preparati. Allora, l'intercettazione delle comunicazioni. Questa tecnica, basilare ma efficace, consentirà all'hacker di carpire informazioni utili al suo scopo, ascoltando telefonate personali, conversazioni informali, eccetera. Poi c'è lo shoulder surfing, che identifica quell'azione tramite la quale un soggetto spia alle tue spalle, e da questo il nome shoulder, cosa stai digitando sulla tua tastiera, con lo scopo di ricavare informazioni sensibili come password o codici di accesso. Queste sono alcune delle tecniche più comuni, in cui però risulta necessaria la presenza di una persona fisica. Esistono poi delle tecniche attuabili anche mediante l'utilizzo di un semplice computer. E qui continuiamo l'elenco. Vediamo phishing, che è una tecnica tramite la quale si prova ad ingannare la vittima spacciandosi per un ento affidabile per cercare di ottenere, ad esempio, dati finanziari o codici di accesso personali. Al link che vedete sulle slide puoi trovare qualche esempio di tecnica di phishing. Dopodiché ci sono le fake mail, ti sarà sicuramente capitato di ricevere qualche mail in cui una banca o un soggetto istituzionale chiede di cliccare su un link e compilare un form con i tuoi dati. E poi ci sono i pop-up. Ci riferiamo a quelle finestre che si aprono automaticamente quando navigiamo in internet, di solito contenenti messaggi pubblicitari o similari, che si presentano durante la navigazione in maniera molto insistente. Queste sono le principali tecniche e se capitate in una di queste situazioni dovete fare attenzione. Su questa slide ti proponiamo una lista di misure precauzionali da adottare per ostacolare il social hacker. Allora, diffida di email o telefonate provenienti da persone che ti chiedono informazioni personali. Sembra scontato ma spesso non lo è. Fai attenzione quando inserisci dati personali in rete come ad esempio il numero della carta di credito. Verifica sempre prima l'attendibilità del sito. Fai sempre attenzione alla urla del sito web su cui stai navigando perché potrebbe contenere delle differenze rispetto all'originale. Evita di aprire allegati o file eseguibili di cui non conosci la provenienza. Cosa puoi fare se ti accorgi di essere stato vittima di un attacco di social hacking? Nel caso in cui l'oggetto dell'attacco è un conto corrente, contatta subito la tua banca e segui la procedura che ti viene proposta. Se hai inconsapevolmente ceduto le tue basso personali, dovrai modificarle immediatamente tutte. Nei casi più problematici, ricordati che potrai sempre far riferimento alle autorità di polizia postale. Inseriamo su questo slide un link dove potrai scrivere direttamente alla polizia postale ed esporre il tuo problema. Grazie